è un gioco di merda pieno di pubblicità che ho dovuto pagare abbiamo creato questo personaggio che si chiama Giacomo che ha vissuto una vita incredibile è uscito con uno scimpanzè poi si è sposato con uno scimpanzè siamo stati anche mangiati da un pesce gigante poi ad una certa abbiamo accettato di fare un massaggio alle gambe al nostro capo e per copia del nostro capo siamo diventati dei barboni ma stai dicendo cosa accade è letteralmente quello è un gioco a caso tu non si capisci niente ma è bellissimo fidatevi di me è stato incredibile che finale ma non era questo il finale ci arrendiamo purtroppo purtroppo ci arrendiamo mi sono arrendito e mi sono qui non mi città ah era fake mi rendete conto ora tutto è partito da uno spermatozoo da un massaggio siamo arrivati a questo stiamo morendo chat hit wild shield la porta siamo stati anche ingoiati da un pesce gigante è vero da una balena c'era anche la storia di pinocchio siamo finiti su un'isola deserta quanto pare ci siamo lasciati alle spalle pesci giganti scimmie donne cattive e ora siamo qui il tempo passa e moriamo bello go back in time fatti arrestare vediamo che succede oh no quindi mo giocami in carcere siamo in galera cinematic ok 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 oh no 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 oh no oh no Oh no 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 Oh no Oh no Oh no 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 Continuiamo Continuiamo Che culo Cavolavoro assoluto. Go. Ok. Ah, questi sono i nostri nuovi amici. Ah. Ah. Il prete che abbiamo incontrato tempo fa. L'abbiamo già incontrato. E quando l'abbiamo incontrato la prima volta abbiamo detto che Dio non esiste. Aiutiamolo. Vediamo che succede. Ah, bravo. Qua finisce. È di pietra. È di pietra. Io vi giuro, questo è il miglior gioco fatto negli ultimi due giorni. Tutto mi sono rispettato, non è che è questo. Ma perché balli? Sì? Dove cazzo siamo? E ma come facciamo? Ma ci sono degli amici? Buonasera. Ah, ci vanno a dormire nel deserto? Oh no, chat. Oh no. Possiamo scegliere se andare a casa oppure esplorare. Abbiamo due scelte, però sappiamo perfettamente che se prenderemo questa scelta ci sarà la pubblicità. È un po' che non gli facciamo fare i soldi. I know all the ins and outs of all things fashion. From hair and makeup to outfit and accessory choices. Ora possiamo riscegliere che cosa fare. Praticamente abbiamo visto un video per nessun... Ma che è il miglior gioco mai fatto finora qua sotto? Tu non hai idea di che cosa è successo. Ripa, ripa. Che cazzo succede? Cioè, di nuovo la musica cinematica. Aspettate. Che succede? È casa nostra? No, i genitori sono morti! Ma non c'è la musica! Sad music! No! Sono morti i genitori! No! Ah, ma che dolore! Adesso va... Ma la polizia non ci cerca più? Oh... Serve un comico? Ma abbiamo una vita di merda! Noi non facciamo ridere! Cosa... Cosa dice Bob a un altro Bob? Ah, ma qual è Bob? Ma qual è Bob? Cosa dice ad una tetta, ad un'altra tetta? Tu sei il mio miglior seno! You are my best friend! Bene, questo l'ho fatto... Quasi! Ma come cazzo siamo finiti a fare quei? Cosa è blu? E non è pesante? Light blue. A me viene da piangere. A me viene da piangere, Piggio. Uh-huh! Eh, uh-huh! Cosa, uh-huh! Che sta succedendo? Uuuh! Si riviaggia! Si riviaggia! E siamo sole! Oh no! Oh no! Certo bur... Ma perché non ci sono i suoi... Ciao! Possiamo saltare? Lanciamoci. Non me l'aspettavo anch'io. Go! Si? La showguts! Castaway? Imaia? Questo riusciamo a farlo solo grazie alla donna che ci ha più traditi. Ovvero, la scimmia. Per chi se lo fosse perso prima, abbiamo avuto una relazione con un orangotango. L'abbiamo anche sposato. Aiutiamo. Aiuto! Però facciamo subito festa, quindi subito... Entriamo a far parte della loro comunità. Vediamo che succede. Sì, siamo ancora in questo bellissimo ma... Uh, però vuole tornare indietro. Vuole tornare a casa sua. Ci pensa. Stay here. C'è un prezzo se restiamo. Se non andiamo via... Dobbiamo guardare una pubblicità. Ne varrà la pena? Ma... Chi siamo noi? Per non scoprirlo. Io l'ho pagato 5 euro per non avere le pubblicità... Eppure ce le stiamo vedendo. Io resto... Perché ti amo! Ok. Eppure ce le stanno guardare... Eppure... Eppure ce le stanno guardare... Quotr... Eppure... Eppure ce le stanno guardare. No, 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 raga, è birra! No, la racchia lei è un coglione! La draga lei è un coglione Qualche giorno dopo Ok, ha avuto dei figli Che cazzo, sono diventato un re Questi, questi, bambini di pe... Scusatemi un secondo Ma com'è, sono diventato anziano il giorno dopo che ha partorito questo? Sono diventato in merda Ma che cazzo significa? Oh no, è da dove ci fa ricominciare, scusatemi Ah, oddio Ah ecco, allora qui potevamo scegliere se tornare indietro oppure restare Questa volta direi che ce ne andiamo a fare in culo Swim Torniamo a nu... Che cazzo succede? Oh, non è tornato lo squalo maledetto di merda Ci sta perseguitando non so quanto tempo sto me Il pesce del verbo da non si è del gioco Assolutamente sì Ah, ecco Ecco Ci apri... Ci laviamo Ci laviamo, perfetto Che schifezza Che... come siamo finiti qui? E andiamo a destra Andiamo a destra, c'è Andiamo a destra Ma se la metto un po' più qua Che cazzo? Ma perché ci sono degli zombie? E perché ho portato dei tramezzini di strada... Che cazzo succede? Ma perché? Però ha funzionato... Ma mi spiegate come cazzo ci sono finito qua? Casinò? Ma ormai stiamo avendo le scelte di video completamente a caso Che cazzo faccio al casino mo? Perché ci sono... Ma io ero un comico Ok, buttiamo tutti... Ti prego, fammi giocare a me Oh, che... Cosa devo fare? Ma che cazzo di scelta di conflagge qua? È bellissimo No, io ho spiegato le carte Non ho capito Io sono perso completamente Io che carte ho? Lei che carte ha? Mi sono perso Ragazzi, aiutate No, assolutamente no, Angelo E io ballo Va bene Sono perso totalmente questo... Ma va bene così Andiamo Abbiamo vinto al casino Come stai ora? Oh no, stiamo... In ospedale? Hai il cancro al colon? Hai due minuti di vita Due minuti No! Ciao Scusami, devo averti spaventato Che cazzo sta succedendo? Chi sei tu? Bene Sono Dio? Perché il gelato al corbaleno è Dio in questo gioco? Che significa? Che cazzo... Ma te... Eh no! Ma che cazzo? No, abbiamo perso perso! Ma vaffanco Però è stata un'avventura Incredibile Ma che cazzo sta succedendo?